Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte, bentornati in un nuovissimo video sul canale Innanzitutto volevo dirvi che sto registrando con un nuovo microfono Un microfono veramente professionale, spero che l'audio si senta bene Fatemelo sapere con un bel commento Ma andiamo al tema principale di questo video, ovvero un giveaway organizzato dell'azienda Mephone in occasione della festa di Halloween Ovviamente per raggiungere questa pagina dovrete andare nel link che metterò nella descrizione di questo video E questa è la pagina principale Andiamo a scorrere verso il basso e dovrete fare tre step principali per partecipare al contest Il primo è ovviamente entrare nel contest E per ente non dovrete fare altro che ovviamente condividere Mephone Fixpo nei vostri social come Facebook, Twitter o Reddit Basta ovviamente uno di questi Successivamente avrete la possibilità, entrati nel contest, di vincere un nuovo iPhone 11 E 20 licenze gratis di Mephone Fixpo Ma andiamo a spiegare che cos'è Mephone Fixpo Ovviamente qui in alto nelle schede vedrete un mio video che ho già realizzato in questo programma Dove andrò a spiegare tutte le funzionalità Ma brevemente vi indico che ha la possibilità di gestire file, ovviamente musiche Riparare i vostri telefoni iPhone, iPad, iPod, Apple TV Ovviamente tantissimi telefoni Quindi permette di fare tutte queste funzionalità Come per esempio aggiustare il vostro telefono se è bloccato nella mela Quindi bootloop Se ovviamente è presente uno schermo nero e non riuscite ad aggiustarlo Potete utilizzare sempre questo programma Uno schermo bianco stessa cosa Oppure durante l'aggiornamento si è bloccato ovviamente l'installazione dell'aggiornamento software Quindi potete usare questo programma per aggiustare questo problema Oppure è bloccato nella DFMU Mod Con questo programma potete risolvere tutte queste problematiche relative al vostro iPhone, iPad, iPod Ma ora andiamo a vedere come entrare all'interno del contest e come vincere il nostro iPhone 11 gratis Per prima cosa dovremo andare a condividere il programma I'm iPhone Fixpo Per fare questa azione dovremo andare a cliccare su Facebook Che è il social che utilizzerò io per condividere Fixpo Quindi in questo momento andiamo in questa pagina qui Allargo ovviamente la pagina per farla entrare nella miniatura del video E ecco qua Andiamo a scrivere un primo commento In questo momento giveaway di iPhone 11 Grazie a I'm iPhone Ecco qui e dovrete andare a cliccare su pubblica su Facebook Dopo aver fatto la pubblicazione la tab si chiuderà automaticamente E apparirà questa schermata dove ovviamente dovrete andare a inserire il vostro nome In questo caso io inserisco Pietro Gramuglia E la vostra email In questo caso la mia è questa qui che ho appena inserito E andare a inserire il codice per verificare ovviamente che siete delle persone e non siete dei robot Quindi andiamo a inserire il codice 5287 Cliccando su Submit non dovrete fare altro ovviamente che aspettare le mail dell'azienda Che ovviamente comunicherà il vincitore tramite le mail che avete inserito qui in questo riquadro E cliccando su Submit entrerete ufficialmente a far parte del contest Eccolo qua Thanks for your participation Now our winner selection list Quindi adesso vi ringrazio per la vostra partecipazione E sarete nella lista dei possibili vincitori dell'iPhone 11 Ovviamente vi invito a scaricare il programma iMyPhone Fixpo Perché comunque è veramente utile Avevo già detto che nelle schede troverete un video dedicato a questo programma E anche perché comunque può aiutarvi in tantissime situazioni Che sono quelle che ho elencato prima Questo ovviamente è un giveaway organizzato per la festa di Halloween Quindi dovrete affrettarvi a partecipare e a inserire l'iscrizione Perché ovviamente i termini scaderanno presto Quindi ragazzi per questo video è tutto Io vi invito a mettere like, a commentare e iscrivervi al canale E di andare nel link in descrizione e di iscrivervi al giveaway Magari non vincerete ma ovviamente non costa nulla partecipare Vincerete sia un iPhone 11 ma anche 20 licenze gratis di un programma chiamato iMyPhone Fixpo Che può veramente risultarvi utile in caso di problemi con il vostro smartphone Bene per questo video è tutto Noi ci becchiamo in un prossimo video E ciao a tutti ragazzi Ok ragazzi piccola pausa Io vi invito a entrare sul sito 1 milione di fan Social site Link anche di questo sito in descrizione Vi permette di avere un sacco di agevolazioni sui social Permette di avere servizi su Instagram, Facebook, Youtube, Spotify Per esempio fan per pagine Facebook Like di pagine Facebook Oppure scorrendo anche su Instagram Follower di Instagram Like e post di Instagram Commenti da YouTube Con visualizzazioni, iscrizioni, like E addirittura gli spettatori in diretta E addirittura gli spettatori in descrizione E addirittura gli spettatori in descrizione E addirittura gli spettatori in descrizione